La dottoressa Mangiarini è una biotecnologa e lavora attualmente presso il CVBF, che è il consorzio per le valutazioni biologiche e farmacologiche di Pavia. La presentazione non va, ovviamente. Adesso apparirà. Apparirà. Buonasera, intanto, come è stato preannunciato, cambiamo un pochino argomento, ma neanche così tanto, perché continuiamo a parlare di salute e di salute in ambito pediatrico. Comincerei con un invito ai genitori qua presenti. La prossima volta che dovrete somministrare una medicina al vostro bambino o alla vostra bambina, provate a leggere attentamente il foglietto illustrativo, in particolare le indicazioni. Quello che troverete è che molto spesso troverete indicazioni che descrivono l'uso di questo farmaco nell'adulto, ma non c'è nessuna indicazione per l'utilizzo specifico nel bambino. In particolar modo nel bambino sotto i 12-10 anni. Anzi, spesso viene aggiunta la frase dati di sicurezza ed efficacia nel bambino sotto i 10 anni non sono disponibili. Questo essenzialmente vuol dire che quel farmaco è stato sviluppato pensando all'adulto, non è mai stato testato nel bambino e il vostro pediatra l'ha prescritto probabilmente in mancanza di alternative terapeutiche. Ma non stiamo somministrando ai nostri bambini un farmaco che è stato specificatamente testato su di loro. Perché succede questo? Perché in realtà in Europa sono molto pochi i farmaci autorizzati. Questo è vero in Europa, è vero anche in altri paesi non europei, è vero anche negli Stati Uniti. In Europa in particolare esistono alcune peculiarità nello stato autorizzativo dei farmaci. Ci sono paesi in cui l'indicazione terapeutica per lo stesso principio attivo è diversa. Lo stato autorizzativo per quelle indicazioni in termini di età è molto diversa in alcuni paesi e direi che quasi generalmente c'è un'assenza di farmaci che sono stati anche autorizzati per la fascia neonatale. In alcuni paesi, e questo è vero anche in Italia, anche se il farmaco è autorizzato, in realtà non è disponibile sul mercato. Quindi il risultato qual è? Che noi dobbiamo utilizzare farmaci che sono stati, come dicevo, sviluppati sull'adulto, ma che non vengono utilizzati nelle massime condizioni di sicurezza nei bambini. In questo slide ho voluto ancora sottolineare come sia diverso lo stato di sviluppo di nuovi farmaci nell'adulto e nel bambino. Storicamente il farmaco è sempre stato studiato nell'adulto. Ci sono precise direttive, regolamenti dalle nostre agenzie regolatorie europee e nazionali che garantiscono quelli che sono i tre cardini, i tre principi sulle quali si deve basare un farmaco per essere autorizzato. Sicurezza, efficacia e qualità. E sulla base di questi principi noi abbiamo farmaci che vengono continuamente immessi sul mercato, anche se con un numero diverso di farmaci ogni anno. Questo non succede nel bambino. Il bambino è sempre stato considerato, per definizione, la popolazione più vulnerabile. Quindi c'è sempre stato timore nell'utilizzarlo per studi clinici per andare a valutare l'appropriatezza di un farmaco. Ci sono innegabili problemi di carattere etico. Il risultato è che i farmaci vengono utilizzati in condizioni e in dosaggi che si basano su criteri derivati dall'estrapolazione dell'uso nell'adulto. Sulla base della quantità di farmaco che diamo all'adulto, in funzione del ridotto peso, diminuiamo il farmaco e lo diamo al bambino. Però il bambino non è un piccolo adulto, è un individuo che è diverso fisiologicamente dall'adulto. Quindi rischiamo di dare quel farmaco ad una dose troppo bassa, magari, e quindi questo determina una mancata efficacia, o una dose troppo alta con l'innegabile rischio di potenziali effetti collaterali che a volte sono stati anche molto gravi. A questo aggiungiamo anche il fatto che, essendo stato sviluppato per l'adulto, esiste ed è disponibile in una forma farmaceutica che mal si adatta all'utilizzo del bambino. Spesso dobbiamo dare a bambini che sono al di sotto dei sei anni delle pastiglie che dobbiamo rompere in maniera molto casereccia, addirittura delle capsule e dobbiamo dividere la polvere, determinando quindi errori anche grossolani nel dosaggio. E quindi il risultato è comunque che in Europa e in Italia c'è un forte ritardo della disponibilità del farmaco pediatrico. E questa diapositiva è per sottolineare ancora questo problema. La linea in rosso non è altro che la situazione dell'immissione sul mercato dei farmaci più innovativi e la linea blu è quella dei farmaci che contengono anche l'indicazione pediatrica. E ad oggi solo un terzo dei farmaci sul mercato hanno anche l'indicazione pediatrica. Quindi GRIP, che è questo progetto europeo che sono stata chiamata a presentare, nasce appunto in questo contesto e vuole rispondere all'esigenza di colmare la mancanza di farmaci pediatrici che sono testati in maniera appropriata in questa popolazione. Quello che GRIP vuole fare è costruire una piattaforma globale per ridurre tutta questa frammentazione che c'è a livello europeo ma anche a livello mondiale e generare informazioni per studiare e sviluppare correttamente i nuovi farmaci pediatrici. GRIP non è altro che l'acronimo inglese per ricerca globale in pediatria ed è un programma quinquennale che appunto si ha come scopo l'obiettivo di stimolare e facilitare lo sviluppo e l'utilizzo sicuro dei farmaci pediatrici. GRIP coinvolge 21 partners sia in Europa che nel Nord America e anche in Giappone e proprio perché vuole essere un'iniziativa globale include anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'Agenzia Regolatore Europea. A loro volta questi farmaci fungeranno da volano per il coinvolgimento di altre istituzioni a livello locale per arrivare a un coinvolgimento di oltre mille istituzioni che includano questa volta anche le associazioni di pazienti e di famiglie. Quindi in breve quello che GRIP intende fare è operare su principi che sono fondati su dati reali come si diceva prima evidence based, quindi evidenze mediche, rigore scientifico e come è stato ribadito più volte dai relatori precedenti anche sulla consapevolezza che la condivisione delle conoscenze non determina un appiattimento dello stato di avanzamento ma anzi sia un modo per determinare una sinergia al progresso medico e scientifico. Quindi quello che si intende fare è generare strumenti e metodi per catalizzare la ricerca migliorare e mantenerne la qualità magari diminuendo nei costi ma soprattutto armonizzare la formazione e la pratica clinica nell'ambito degli operatori del settore. Quindi a questo scopo non coinvolge solo gli operatori sanitari ma come vedremo dopo brevemente intende coinvolgere anche quelli che sono i finanziatori dello sviluppo del farmaco quindi le industrie farmaceutiche e anche le organizzazioni di classe. La formazione è centrale al progetto proprio per la diffusione di questa buona pratica clinica di cui si discuteva prima nelle diverse aree di interesse e che deve essere personalizzata rispetto al tipo di fruitore, siano esse ricercatori, famiglie o anche bambini. Quindi tutti i progetti è divisi in nove sottoprogetti e altri sottoprogetti sono di carattere più tecnico e sono rivolti a metodologie direzionate verso gli studi clinici, le formulazioni di cui parlavamo prima e i bisogni di popolazioni particolari come ad esempio i neonati. Adesso qui ho una carrellata delle attività che si vanno a fare ma di fatto quello che si vuole fare è un programma formativo rivolto sia verso gli operatori sia verso i fruitori del farmaco pediatrico e anche sviluppare nuove metodologie per snellire e facilitare questo processo di sviluppo del farmaco che nel caso del farmaco pediatrico si trova a dover affrontare problematiche particolarmente complesse come sono appunto le problematiche della formulazione e le problematiche legate ai farmaci per i neonati. Esistono poi attività di supporto che in questo caso sono indispensabili per poter coordinare un numero così elevato di partner e purtroppo devo stringere però vi lascio il sito al quale potete accedere se vi registrate potete ricevere gratis la newsletter con tutte le informazioni riguardo alle novità del farmaco pediatrico e alle novità relative alla ricerca in pediatria. domande dal pubblico? volevo sapere se queste informazioni sono nelle varie lingue perché magari sono interessate soprattutto persone famiglie sì la piattaforma è in fase di sviluppo adesso è presente in italiano e in inglese e poi si intende metterla a disposizione anche nelle altre lingue una domanda è attualmente i genitori come devono perché ne discutevamo prima solo un terzo dei farmaci hanno avuto pediatrici hanno avuto una procedura di sperimentazione corretta come ci si regola adesso i genitori come si regola? allora i genitori in questo momento non possono fare niente nel senso l'unica interfaccia che loro hanno è il pediatra che gli aiuta a scegliere il farmaco più appropriato per il bambino più appropriato anche in termini di stato autorizzativo e anche di disponibilità di formulazione quello che bisogna fare è proprio sensibilizzare le case farmaceutiche in questo caso l'agenzia regolatoria europea ha obbligato adesso le case farmaceutiche a registrare la formulazione pediatrica per ogni farmaco che loro hanno sul mercato chiaramente questo processo è molto lento e porterà via molto tempo perché prevede per ogni farmaco lo sviluppo di uno studio clinico atto a dimostrarne la sicurezza, l'efficacia e la qualità però ci si augura che nei prossimi anni vedremo un numero sempre superiore di farmaci pediatrici i prossimi nuovi farmaci dovranno avere tutti l'indicazione pediatrica a meno che l'industria non dimostra che quella patologia non è presente nei bambini oppure che quel particolare principio attivo non è efficace nei bambini ho capito, c'è una domanda lì? scusatemi, volevo solo fare una precisazione per assicurare le mamme presenti per i reali bisogni di un bambino con una normale patologia lasciamo perdere certe patologie di livello ospedaliero o oltre io penso che i farmaci che noi abbiamo siano prima o più che sufficienti per amore di me ne vengono bene altri che valuteremo ma di reali farmaci che noi usiamo e che nel foglietto abbiano scritto come possono usare i pediatri, la maggior parte sono farmaci inutili cioè noi con un piccolissimo numero di farmaci, tutti testati sui bambini possiamo tranquillamente fare una buona pediatria l'unico, se vogliamo, l'unico farmaco, gli unici farmaci che noi utilizziamo sempre meno, devo dire, nei bambini che hanno, in cui c'è scritto che non si possono utilizzare, su cui adesso si sta facendo anche tra l'altro una ricerca molto ben fatta in doppio cieco su tre farmaci sono i farmaci che inibiscono il vomito è l'unico farmaco che nella mia farmacopea personale mi manca di poter dare liberamente non me ne viene in mente un altro che non abbia nella normale esercizio della pediatria un'indicazione, quindi tanto per assicurare io ne ho in mente parecchia, ad esempio nel caso dell'epilessia che non è così rara nei bambini e abbiamo farmaci che vengono somministrati nei bambini in capsule e le capsule devono essere reincapsulate per fornire un dosaggio appropriato per il bambino però diamo una capsula a un bambino di 5 anni non è così, se ci sono adulti che non riescono a prendere le capsule un bambino sono problemi reali che come genitori ci troviamo a dover affrontare ogni giorno il professor Tamburlini è qua è stato chiamato in causa dal suo collega penso che il dibattito ha portato due termini reali della questione cioè innanzitutto quello che dice De Manzini è che nella sua pediatria di base, di famiglia i farmaci che lui prescrive, lui non prescrive l'antiepilettico lui prescrive il paracetamolo, lui prescrive l'ampicillina, la morsicillina e lì siamo abbastanza a posto con l'eccezione che lui aveva citato sull'antivomito che veniva subito in mente anche a me certo poi c'è tutto il resto e sul resto hai ragione tu, non c'è dubbio anche se a mio avviso tutta questa questione rischia di creare una preoccupazione eccessiva perché andrebbe circoscritta per quel farmaco lì ci manca la formulazione assolutamente per quel farmaco lì ci manca la sperimentazione e quindi dovremmo chiarire tutti i sottoproblemi perché altrimenti si rischia di generare una preoccupazione eccessiva che è quella a cui cercava di rispondere il nostro collega su questo sono assolutamente d'accordo tant'è vero che la stessa agenza il comitato pediatrico europeo ha creato una lista per ciascun farmaco identificando quelle che sono le problematiche particolari in pediatria che come dice lei può essere per un farmaco la mancata formulazione per un altro la sicurezza a lungo termine per un altro dati di farmacovigilanza e per un altro tutti questi messi insieme grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti